C'è sicuramente un anno particolare, per la prima volta c'è un anno giubilare, c'è un anno santo straordinario della misericordia, ma soprattutto c'è questa decisione del Papa, Papa Francesco, di far aprire tutte queste porte sante, coinvolgendo le diocesi, coinvolgendo quindi l'intera comunità. A Salerno, così come nelle altre concattedrali e nelle altre diocesi, c'è stata l'apertura della porta santa. Le più volte ha ribadito che c'è stata una grande partecipazione. Sì, è certamente l'invito che il Papa lancia alla Chiesa, all'umanità, che l'amore misericordioso è per tutti, che nessuno può dire, posso rimanere estraneo, ecco. Si tratta di accorgerci dell'amore di Dio e accoglierlo, per trovare nell'amore di Dio la forza di rigenerare noi stessi, di ritrovare speranza, per ritrovare motivazioni che ci fanno sentire costruttori del Regno di Dio. Nonostante la nostra povertà, nonostante il nostro limite, l'anno santo si caratterizza nel pellegrinaggio nella Chiesa Giubilare, dove si entra per la porta santa. Noi sappiamo come il segno della porta è Gesù. È Gesù che ci rivela l'amore del Padre e attraversare, direi, la porta significa lasciarci guidare, accompagnare da Gesù a vivere l'abbraccio dell'amore di Dio Padre, come avviene nella parabola del figlio del prodigo, come viene ripetutamente presentata, direi, nella scrittura. Questa è un'opportunità che certamente cambia il cuore delle persone, ma ha una rigaduta nella convivenza, perché l'esperienza della misericordia di Dio ci rende artefici di misericordia, cioè artefici e protagonisti nel costruire comunione, riconciliazione. C'è una frase molto importante del Vangelo, che forse è bene rimettere al centro della nostra attenzione. Quando ci dice, se ti trovi davanti all'altare a fare la tua offerta, e lì ti ricordi che qualcun altro, se tu hai qualcosa contro qualcuno, ma qualcun altro ha qualcosa contro di te, lasciali l'offerta, vai, riconciliati, e poi torna a fare l'offerta. Noi abbiamo bisogno di riconciliazioni, sono molte divisioni. Ciò che oggi è malato in genere è proprio la relazione, l'incapacità di vivere relazioni positive. Questo lo vediamo nelle famiglie, nella società, nella comunità. È proprio l'impegno a modificare, direi così, la relazione che ci unisce l'un l'altro, che potrà essere veramente il salto di qualità, non solo nell'esperienza religiosa, ma anche nell'esperienza della convivenza civile. Apertura della Porta Santa, però, che deve essere solo un punto di partenza. Lei l'ha ricordato, insomma, occorre poi impegnarsi realmente e soprattutto impegnarsi per qualcun altro. Sì, certamente non è un fatto rituale, è un impegno della vita, un impegno del cuore. È un anno in cui siamo chiamati veramente a riprenderci in mano, a ridefinire noi stessi, per ricollocarci nel cammino della vita. E questo vale per tutti. Vale per chi è all'interno dell'esperienza della Chiesa, chi si sente al margine. Noi, per esempio, abbiamo voluto, raccogliendo le indicazioni del Papa, collocare una Chiesa giubilare all'interno del carcere, perché è il simbolo, diciamo così, che non c'è nessuno abbandonato. E questo per me è importante. Anche qui, per esempio, la Chiesa giubilare del carcere non è solo per i detenuti, ma lì ci sarà la comunità cristiana che, così, organizzata un po' a secondo le possibilità specifiche, ogni domenica sarà presente con rappresentanze delle diverse parrocchie, per vivere sì la celebrazione dell'Eucaristia, ma anche per vivere la realizzazione di quelle che sono le opere di misericordia, visitare i carcerati è una di queste. Il 2015 è stato sicuramente l'anno degli sbarchi. Si è chiuso, appunto, con l'apertura dell'anno santo, però nel corso dell'anno ci sono stati tanti sbarchi, poi è cambiato con le politiche comunitarie. La Chiesa è stata impegnata in prima linea per queste accoglienze, poi gli attentati di Parigi. Che significa? Nel 2016 la Chiesa quale altre sfide dovrà sopportare anche sul territorio, anche per interfacciarsi con le varie comunità, con le comunità islamiche? Ma io credo che ormai viviamo all'interno del mondo globale. Tutto il mondo è presente qui in mezzo a noi. E i fenomeni che ci sono nelle diverse parti del mondo, di tragedie, di ingiustizie, di quelli che Giovanni Paolo II chiamava, direi, le strutture di peccato, producono effetti certamente non positivi. Il fatto che ci siano milioni di persone che devono lasciare la casa per non morire, per salvare la dignità, per non rinunciare alla propria fede, per alcuni casi, la dice lunga su quello che è il bisogno di redenzione che c'è nel mondo. Credo che ci sono sistemi di ingiustizia inaccettabili, quelli che denuncia continuamente il Papa, pensiamo al rapporto col danaro, il rapporto con la ricerca ossessiva, direi, dell'utile, che diventa speculazione, a scapito di altri. Il fatto, meno così si dice, è che il 20% delle persone possiede l'80% delle risorse, delle disponibilità, la dice lunga su quante ingiustizia c'è. Dentro questo campo, il cristiano è chiamato a diventare operatori di giustizia. È una delle beatitudini che Gesù ci dà, beati gli operatori di giustizia, beati i costruttori di pace. E il Papa ci chiede di essere artigiani in questo, per cui il fatto di non essere i potenti del mondo non significa che non possiamo far nulla. Il Papa ci dice che ognuno di noi, nel nostro piccolo, può avviare dei processi che modificano la mentalità, la possibilità di rapportarci l'un l'altro. E questo è un impegno grande, ma che significa anche essere veramente protagonisti della storia, nel senso che il Papa ci dice che non possiamo guardare la vita, la storia dal balcone. E quindi ci chiede di sporcarci le mani, ma in un impegno che ci coinvolge giorno per giorno come persone, come comunità, come cristiani, come persone umane, come uomini di buona volontà. Una ricerca del vero, che deve partire anche da un vero valore del Natale, che non sia soltanto quello consumistico. Beh, questo sì. Bisogna evitare le mistificazioni. Siccome l'uomo tende a strumentalizzare tutto per altri fini, anche il Natale corre questo rischio. Io ripeto spesso che bisogna evitare il rischio di fare la festa senza il festeggiato. Il Natale essenzialmente è la nascita di un bambino che è il figlio di Dio. Gesù, che è fatto storico, che è Dio che ha tanto amato il mondo, che ci dona suo figlio. E per noi celebrare il Natale significa non solo riconoscere che c'è, ma anche accoglierlo. Gesù dice, io sto alla porta e busso. Se qualcuno mi apre, io entrerò, mi siederò a mezza con lui e vivrò con lui. Per chiudere, chi auguro si può fare? I salernitani nel questo 2016, problemi, crisi economiche, comunque la possibilità di guardare avanti? L'augurio è che tutti noi ci convinciamo che le difficoltà si superano insieme. Ho la sensazione a volte di un individualismo esasperato che caratterizza la cultura di oggi, il mondo di oggi, e anche qui da noi. Sconfiggendo l'individualismo, il ripiegamento di se stesso, anche se dovremo condividere poche cose, ma nella condivisione diventa importante tutto. Altrimenti il rischio è che pensiamo di risolvere il problema, ma lo rimuoviamo, perché non è che se sta bene uno stanno bene tutti. Avremo giustizia, avremo pace, avremo gioia, se anche avendo meno, ma gioiamo tutti insieme.